Il Circus della Formula 1 fa tappa a Singapore per il 15esimo appuntamento del Mondiale. Nella notte tra venerdì e sabato si sono svolte le prime due sessioni di provi libera. Il più veloce è stato ovviamente Nico Rosberg su Mercedes che ha preceduto Max Verstappen con Red Bull. Terzo posto per il finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen. Dunque tutto in salita per quanto riguarda le Ferrari ma anche le Mercedes soprattutto per il Mondiale Piloti. Con Hamilton in classifica due sono i punti di distacco da Rosberg che potrebbe effettuare l'ennesimo sorpasso. La sessione delle prove ufficiali per stabilire la griglia di partenza avverrà nel pomeriggio italiano di sabato.